Ciao ragazzi, in questo nuovo video vediamo il complemento di moto per luogo e direi che con questo abbiamo anche finito con i complementi di luogo quindi niente più noia perché mi sa che questi complementi non vi sono piaciuti tantissimo in ogni caso sono molto importanti in lingua italiana quindi è giusto sapere che cosa sono, almeno in linea generale insomma per renderci conto di che cosa stiamo analizzando appunto con l'analisi logica quindi il complemento di moto per luogo è un complemento indiretto ovviamente di luogo che indica il luogo sempre reale o figurato attraverso cui ci si muove o si compie un'azione è molto semplice, lo usiamo frequentemente risponde alle domande per dove, attraverso quale luogo abbiamo visto che ogni complemento sia diretto come complemento oggetto sia complementi indiretti che abbiamo visto finora rispondono sempre a delle domande quindi per capire di che complemento si tratta quando noi andiamo a effettuare un'analisi logica su una frase o sul discorso basta semplicemente porsi le domande giuste vediamo alcuni esempi di frasi con un complemento di moto per luogo non passare mai per questa strada è pericoloso il nostro complemento di moto per luogo è per questa strada, attraverso questa strada quindi noi possiamo porre la domanda qui non passare mai per dove, attraverso quale luogo per questa strada, perché è pericoloso per arrivare in città è meglio passare attraverso i campi attraverso è un avverbio che rende benissimo l'idea di attraversare qualcosa quindi di percorrere un luogo attraverso cui ci si sposta verso un altro luogo entro dall'ingresso secondario qui abbiamo un complemento di moto per luogo corretto dalla preposizione articolata dallo sarebbe, dallo ingresso, quindi maschile, singolare ho tanti pensieri per la testa ovviamente qui si tratta di un moto per luogo di un complemento di moto per luogo figurato perché la testa non è in realtà un luogo in quel senso ma è comunque un posto, tra virgolette, tramite cui passano i pensieri quindi ho tanti pensieri per la testa è un modo di dire che in italiano significa che ho tanti pensieri che mi stanno passando attraverso la mente che mi stanno attraversando la mente il complemento di moto per luogo è retto dalle preposizioni semplici per, da, di, tra, attraverso che ho visto che nel dizionario è considerato sia preposizione che avverbio in, sempre preposizione semplice e ovviamente da tutte le preposizioni articolate che derivano quindi dalla, dallo, dal, eccetera è anche retto dall'espressione in mezzo a è sempre un complemento di moto per luogo cioè è un'espressione che regge sempre un complemento di moto per luogo per questo video direi che è tutto se avete domande scrivetemi vi ricordo i miei contatti che sono appunto il canale youtube la pagina facebook, la pagina twitter e vi consiglio di esercitarvi sull'analisi logica sul sito www.impariamoitaliano.com grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video